e allora rieccoci siamo in onda per parlare di esporti in questa nostra puntata del podcast di le fonti tv lo facciamo con roberto daverio che è ad di ask advisory società benefit e soprattutto presidente di lxt esport roberto innanzitutto benvenuto ti ringrazio e come potete vedere mi ha portato giustamente anche per parlare di esport una guida perché sa che io non sono ferratissima sull'argomento lo ha messo anche nel fuori onda nel senso che il mio rapporto con il videogame si ferma addirittura agli anni 80 donkey kong quando io mio fratello giocavamo insieme poi si sono scaricate le pile del donkey kong e lì è finita la mia carriera invece adesso che questa è l'occasione giusta per tornare a parlare naturalmente di tutto questo mondo che non ha segreti per la generazione z per i nativi digitali che invece necessita magari di qualche spiegazione in più per chi appunto come me ha qualche anno di più rispetto ai giovanissimi e allora roberto io ti direi innanzitutto parliamo proprio di definizioni ecco che cosa sono gli sport e soprattutto in cosa si differenziano rispetto ai videogiochi tradizionali ciao valentina grazie per avermi ospitato in questa trasmissione e si può essere effettivamente un'occasione per spiegare questo nuovo trend che poi riporta non solo alla parte ludica ma tutto un discorso anche economico e sociale ahimè io qualche anno ancora più di te per cui mi sono fermato addirittura prima a pong adesso parliamo proprio della pre-storia assolutamente assolutamente la pre-storia ma infatti questo è un po il concetto tra differenza tra videogame e sport di sport nascono addirittura nei pre anni 40 come proprio attività ludica poi il grosso boom l'hanno avuto con l'inserimento dei dei grossi big sul mercato come come nintendo o sega video che forse era il produttore di donkey kong potrei ma potrei anche sbagliarmi e man mano si evolvolo fino a poi arrivare addirittura una prima competizione tra tra le persone che appunto giocavano in home a casa con con questi apparecchi nel 1972 il concetto di sport è totalmente differente perché gli sport come ne intendiamo oggi sono proprio delle leghe sono dei circuiti competitivi sono tornei e competizioni simili proprio agli sport veri dove prevedono proprio un pubblico di spettatori dove i giocatori singoli o squadre giocano sia di persona per cui fisicamente che online e lo scopo va al di là appunto del divertimento perché lo scopo di di queste leghe è proprio quello di ottenere premi e il motivo per cui vengono chiamati gaming competitivo o i gaming o pro gaming perché gli attori sono proprio digheri professionisti e ha visto dei professionisti tra l'altro adesso poi ne parliamo ovviamente della squadra che voi avete fondato lxd sport professionisti che hanno una vera e propria routine comunque da seguire non degli allenamenti degli obiettivi naturalmente da raggiungere quindi ecco perché questo mondo si fa molto spesso a confusione tra i pro player e gli influencer invece qua si parla insomma di una professione quindi anche con tanto di disciplina assolutamente sì il professionista è proprio un professionista come professionista sportivo per cui nella costruzione di un team bisogna assolutamente prevedere un coach che allena i ragazzi noi abbiamo due due titoli i titoli sono i due differenti sport nel mondo lxd uno è fifa fifa molto noto in quanto gioco che che riporta al gioco del calcio e per cui abbiamo un coach abbiamo tre professionisti ci sono appunto vari tornei dove questi professionisti giocano singolarmente contro altri o addirittura in squadra e il coach proprio gli allena e questo vuol dire proprio una vera attività c'è otto ore di allenamento quotidiano su come se fosse un ovvero professionista senza poi dimenticare tutta l'attività di di un vero professionista sportivo per cui senza poi dimenticare anche la parte di attività fisica la parte posturale eccetera eccetera perché come ogni tipo di sport vero reale ha delle controindicazioni certo e ne parliamo è perché ci sono un po delle argomentazioni pro e contro naturalmente c'è una comunità scientifica che dice che gli sport addirittura fanno bene al cervello stimolano determinate attività la capacità di prendere delle decisioni in autonomia in tempi stretti i riflessi ma poi anche c'è tutto un risvolto invece negativo che riguarda il burnout perché stare così tanto tempo davanti a uno schermo hai parlato appunto di una vera e propria professione quindi sette otto ore al giorno può avere anche dei risvolti negativi ecco come si riesce a bilanciare le varie esigenze parliamo di quelle che sono oggi anche dei studi scientifici quelle possono essere le caratteristiche positive che portano anche gli sport e poi magari possiamo parlare anche del percorso di carriera di questi professionisti quindi oggi il gaming sta sempre più viene utilizzato anche dalle aziende soprattutto nel mondo delle char anche per comprendere quali possono essere tutte quelle soft skill che vanno al di là appunto delle hard skill che sono quelle tecniche mi spiego meglio un giocatore di FIFA sviluppa tutta una serie di skill quali la negoziazione cioè nel senso si deve creare la sua squadra perché per giocare si deve fare proprio ci esiste proprio il calcio mercato per cui deve comprarsi il giocatore deve capire se quel giocatore a che prezzo comprarlo quando rivendolo per cui c'è anche tutto una skill di negoziazione durante la partita se si gioca in coppia c'è proprio le logiche di team per cui la gestione del team si gioca con un compagno c'è la logica della strategia differente dalla tattica durante la partita oppure emergono altri caratteristiche quale può essere la resilienza una squadra che anche nel momento che perde comunque riesce a recuperare sempre e comunque negli ultimi minuti di partita vuol dire che sono due persone che giocano che non che non mollano mai in every gap e per cui queste dimostrano queste caratteristiche vengono utilizzate appunto e noi ci vengono anche chiesti con l'attività appunto che poi che si fa anche come squadra per cui al di là dei tornei di organizzare all'interno delle aziende per i dipendenti o anche in fase di selezione di provare a mettere i candidati a confronto con i pro player per vedere quale tipo di caratteristiche possono emergere infatti io volevo arrivare proprio qui perché tu hai citato insomma il calcio mercato anche la compravendita insomma dei giocatori un po' simile rispetto a quello che avviene nel calcio però ti chiedo individuare le caratteristiche di un giocatore che appunto gioca a pallone tradizionalmente è piuttosto semplice perché si verifica insomma più o meno la capacità di fare gol la velocità l'uno contro uno e così via sono caratteristiche visibili invece ecco come si individua il campionissimo di e-sport ecco su che cosa l'occhio deve focalizzarsi di più allora scinderei due cose per la parte quella della scelta del giocatore virtuale che è della comprensione della squadra ci vorrebbe un pro player magari ci sarà un'occasione prossimamente te ne presenterò uno e ci spiegherà esattamente quali sono le caratteristiche che sono individuate da delle card cioè nel senso per cui il Ronaldo della situazione ha determinate caratteristiche rispetto al passaggio la fase realizzativa colpo di testa la potenza l'anzianità eccetera eccetera se invece parliamo del professionista per cui il ragazzo che muove la console e muove i giocatori è in funzione dei risultati per cui essendoci in questi tornei come nel mondo degli sport reali giocando più si ottiene risultati noi in squadra abbiamo Diego detto Cresi perché poi ognuno ha suo alias Cresi è stato campione del mondo di FIFA se ricordo bene nel 2020 Andrea Storari che è l'altro nostro giocatore settimana scorsa era a Londra a fare la Champions League perché esistono proprio come per il campionato di calcio normale delle competizioni per cui c'è il campionato di Serie A ogni squadra di Serie A perché man mano gli sport stanno anche assumendo a livello del conio a livello di federazione proprio essere delle vere competizioni riconosciute ogni squadra di Serie A ha la sua squadra di eSport al momento è difficile che una squadra proprio la squadra personale si preferisce ancora rivolgersi a squadre come può essere l'XT o come altre che in qualche modo prestano la loro squadra al campionato di Serie A per dire noi abbiamo Andrea Storari oggi che gioca nell'Empoli Empoli in squadra di Serie A e che tra l'altro è anche prima in classifica all'Empoli per cui non vuol dire che la competizione del mondo reale rispecchia poi effettivamente anche le performance chiaro chiaro ecco ma sono appunto professionisti che giocano anche in Serie A in Champions League quindi insomma in competizioni di assoluto livello e potrebbero anche giocare presto alle Olimpiadi perché c'è il presidente francese Emmanuel Macron che è appassionatissimo di eSports tra l'altro ricordiamo che Parigi ha ospitato anche il campionato mondiale di League of Legends nel 2019 e vorrebbe portare appunto gli eSports come disciplina olimpica già da Parigi 2024 adesso io non so se proprio alle prossime Olimpiadi sarà possibile ma comunque questo sembra un po' uno sbocco naturale quindi ecco che cosa rispondi a chi dici no e invece insomma gli eSports non possono essere paragonati a una disciplina sportiva non è giusto inserirli tra le discipline olimpiche questo è un bel quesito io sono molto più sportivo nello sport ideale faccio tanti sport e sugli sport ho già detto prima dove mi sono fermato però è probabilmente se guardiamo le Olimpiadi di Atene di quando sono nate c'era uno degli sport che oggi non ci sono più e viceversa ne sono entrate degli altri certo e viceversa ne sono entrate degli altri per cui secondo me fa parte dell'evoluzione naturale delle cose è un fenomeno che indubbiamente avrà un suo percorso, avrà una nostra strada è in continua evoluzione io quello che mi auguro ed è un po' l'impegno che ci siamo presi noi è quello ritornando a quali sono poi anche gli aspetti che si vedono anche più negativi bisogna gestirlo con cura stiamo parlando di professionismo oggi non esiste ancora una vera e propria legislazione su inquadrare questi professionisti la scelta che mi ha fatto noi come ASCIP, di conseguenza come squadra è di regolamentare i nostri pro player con propri contratti hanno anche un codice cittico da rispettare perché comunque tu prima parlavi di differenza tra pro player e influencer spesso sono anche entrambe le cose Crisi oggi oltre che essere un pro player è anche un influencer perché ha una fan base incredibile ci sono tutti dei canali nuovi la generazione Z oggi non guarda più la televisione ma guarda sicuramente questi nuovi canali di distribuzione questi nuovi canali di comunicazione Twitch per esempio dove spesso quasi in esclusiva il nostro semestre di sport o anche Facebook gaming eccetera eccetera e i nostri pro player sono educati perché gli diamo tutta una serie di supporto per il loro allenamento ma non solo per il loro allenamento quando loro sono in diretta devono rispettare anche un codice cittico che rappresenta i valori della nostra squadra certo beh una questione chiaramente non solo riguarda l'educazione e lo sport ma riguarda anche un giro d'affari importante che si è creato e forse magari non ancora tantissimo in Italia perché ci sono dei paesi europei che ci superano sicuramente ma insomma pian piano stiamo cercando di raggiungere quel livello ecco per quanto riguarda il giro d'affari tu so che hai delle cifre interessanti da condividere ecco se ci vuoi dire a che punto siamo quali sono gli investimenti quali sono anche i grandi sponsor i grandi marchi che sono coinvolti appunto nel settore degli sport e fin dove arriveremo? allora parlavi di Italia e del resto del mondo nel mondo il volume d'affari registrato nel 2021 è di 1080.3 miliardi di dollari spaventosa perché ho letto tra l'altro che è superiore a quella dell'industria della cinema, della musica e della televisione messi insieme quindi sono cifre veramente da record sì perché ormai questa nuova generazione non riconosce più in questo modo di comunicare in Italia siamo nel 2021 siamo fermi ai 45 milioni che non è comunque una cosa da sottovalutare si stanno avvicinando sempre più aziende perché appunto come raggiungere o attraverso l'advertising o attraverso le sponsorizzazioni e per andare appunto a colpire questa generazione che se Diego ha una fanbase di un certo tipo per cui passare un messaggio attraverso questa fanbase vuol dire raggiungere questa generazione Z per cui uno degli introiti sicuramente è quello del mondo degli overtising piuttosto che delle sponsorizzazioni noi puntiamo molto anche non solo su questo cioè cerchiamo di sporcare la nostra maglia il meno possibile al momento è priva di sposto più per scelta perché non vogliamo poi rendere la nostra maglia come le maglie della Formula 1 si fa venire in mente come il Barcellona squadra di calcio che aveva unicef esatto esattamente e preferiamo magari coinvolgere le aziende più verso una logica culturale educativa in modo che condividano il nostro progetto oppure dare supporto alle nostre aziende per comunicare ciò che noi mettiamo a disposizione delle nostre competenze e la nostra squadra per divulgare dei messaggi che siano comunque appunto compatibili con la nostra filosofia ecco infatti perché siamo arrivati tra l'altro a parlare di e-sports partendo dalla vostra realtà perché ASC Advisory ha fatto un passaggio significativo una società appunto di formazione e di consulenza in ambito finanziario che ha deciso poi di diventare società benefit di lanciare appunto questo progetto e con la finalità insomma che ci hai detto però ti chiederò di spiegare ancora meglio questo passaggio e soprattutto dove volete arrivare ASC Advisory è appunto una società di consulenza e formazione in ambito economico finanziario è stato sempre proprio quello che ha caratterizzato la società si è molto concentrata su processi organizzativi su hai aiutato le associazioni categorie per i riconoscimenti delle professioni quella di fuori degli altri per cui 3.4 2013 per cui nasce già con un DNA molto rivolto a portare cultura a portare informazione al di là poi di fare profitto perché sta nella logica di ogni società di ogni impresa è una società che a mio avviso ha molta vision e cerca sempre di volerci verso il futuro per cui il discorso delle società benefit anche questo tutto sommato è un mondo abbastanza nuovo abbastanza recente la scelta una scelta di agosto 2022 di diventare società benefit società benefit magari per chi ci ascolta non lo sa non vuol dire la società no profit ma assolutamente vuol dire che è un impegno proprio che si prende la proprietà la dirigenza io ne rispondo c'è un responsabile dell'impatto che a fine anno verrà a verificare che l'impegno che mi sono preso proprio con un progetto benefit sia stato sia stato rispettato e quando dicevano società benefit quindi bisogna trovare un progetto cioè bisogna trovare un progetto poi chi è nel mondo magari dell'industria piuttosto che è facile non ci sono oggi tutti i carbon free eccetera eccetera per cui dice beh risparmio o investono in energia pulita o risparmio sulla carta eccetera eccetera una società di consulenza dove di base è anche difficile poi difficile individuare con il progetto poteva essere quello investiamo un tot dei nostri profitti e investiamo chi ha avuto l'idea della team di e-sports? ma allora l'idea del team e-sports nasce da come poi ci hanno convinto perché siamo abbastanza non siamo neanche siamo della generazione A antewear we boomer nasce perché tra i soci di Ask Advisory c'è l'avvocato Arnaldi di Lexington che aveva già fatto lo studio Lexington penso uno dei forse il primo studio legale a fare il passaggio di studio legale come società benefit e siamo comunque due persone molto molto curiose ai tempi avevamo un team di giovani che ci dicono c'è la fiera degli sport a Rimini ci pagate la trasferta per andare a vestire tutti i sport e ho detto beh dai vediamolo come team building tornano ci tornano raccontandoci questo mondo logicamente l'entusiasmo dei giovani è contagioso un po' l'esperienza più manageriale e abbiamo cercato di capire per cui facendoci aiutare poi dai professionisti perché non si entra in un mercato del genere se non c'è un professionista che ci aiuta per cui noi abbiamo una forte partnership con Prodos che è una società che si occupa di ricerca come dicevi tu prima come se fosse calciomercato di quali possono essere i player che sono sul mercato per cui come gestire la contratualistica eccetera eccetera per cui decidiamo di farlo diventare il nostro progetto benefit ma il nostro progetto benefit è appunto quello di creare questa squadra ma questa squadra la prima cosa i pro player devono avere un contratto per cui non devono essere pagati in scambio merce eccetera eccetera per cui sono regolarmente contratualizzati devono rispettare un codice etico ma soprattutto noi l'impegno che ci siamo presi è quello di dare ai nostri pro player tutta una serie di strumenti che li possono supportare sia nella loro professione ma anche poi nel futuro della loro professione quindi i nostri pro player hanno a disposizione un nutrizionista perché questa è una di quelle cose che spesso si vengono imputati dai genitori i bambini che passano una giornata di giocare con tutto il discorso legato all'obesità legato all'obesità legato al jack food che spesso magari si vede sulle scrivanie di mentre giocano abbiamo un sostegno psicologico per cui i nostri professionisti hanno accesso al trattore di psicologo perché è quello che dicevi tu prima evitare il burnout hanno tutta una serie di strumentazioni che li allena per cui dagli occhiari di un certo tipo ai monitor a tutti una serie di strumentazioni per allenarsi hanno un supporto legale che può sembrare qualcosa in più ma non è assolutamente pensiamo un professionista che sta giocando una competizione o durante una sua diretta con i follower subisce un cyber attack oppure gli si cresce la linea e non può non può competere è un danno noi abbiamo comunque un supporto legale abbiamo anche un supporto di educazione finanziaria per cui una persona che arriva dal mondo finanziario perché comunque sono persone che a 19-20 anni hanno comunque una retribuzione anche portante eh sì gestiscono già un patrimonio gestiscono un patrimonio però magari non hanno tutte le speciali competenze le conoscenze per poterlo gestire quindi questo sicuramente è con aiuto anche fondamentale che voi fornite assolutamente sì e poi abbiamo anche qualcuno che li segue nei percorsi di carriera perché comunque come per gli sportivi professionisti cioè nessuno non può continuare a giocare a calcio fisicamente al di là di qualche al di là di Zlatan Ibrahimovic l'abbiamo visto ieri tra l'altro che passati 40 anni lui in perterrito continuo appunto a giocare come se ne avesse 20 però infatti io te lo volevo proprio chiedere questo è un qualcosa diciamo che può accadere nel calcio certo abbiamo citato Ibra potremmo citare insomma altri asvedi professionisti soprattutto portieri che avanti con l'età hanno continuato a competere però questo è possibile per un pro player di sport e mi spiego magari ecco arriva un ragazzo molto più giovane un 16enne un 18enne che in quanto ha riflessi a prontezza supera già un ragazzo di 25 anni che magari ecco per questa categoria possiamo già considerare senior in un certo senso quindi ecco la carriera di un pro player di sport fino a quando si protrae io credo che i 30 anni possono essere appunto quel limite adesso poi magari verrò smettito dal mio pro player che spereranno magari di giocare fino a 2050 e quello che noi pensiamo appunto comunque dare un percorso di crescita cioè per cui che può essere o in ambito al di fuori del mondo di sport ma anche proprio nella struttura e sport perché come abbiamo visto prima ti dà mille possibilità nel nostro team oggi cioè di là che io sono presidente noi abbiamo comunque un team manager abbiamo dei responsabili commerciali abbiamo dei responsabili legali abbiamo tutti i professionisti abbiamo il coach per ogni titolo abbiamo i pro player per cui anche il pro player vede che comunque all'interno dello stesso team ha le possibilità questo capita anche nel mondo dallo sport cioè fatto il caso di Bremi io sono un'altra sponda di Naviglio ti cito Zanetti che anche lui ha giocato comunque fino a oltre 40 anni e oggi senza sudare mai e senza mai spettinarsi è un qualcosa che io non ho mai capito contro le leggi della fisica è vero è vero e oggi il vice presidente dell'Inter per cui ha avuto la possibilità o quanti sono diventati a fare allenatori no? per cui cerchiamo di ripetere la stessa cosa ma questo è un messaggio che non solo noi lo diamo ai nostri professionisti come filosofia e come progetto Benefit ma quello che chiediamo a loro queste pillole che loro ricevono è di trasmettere durante le loro dirette alla loro fanbase questo anche per far capire ai genitori che vedono il proprio figlio costantemente davanti a una console capire che tutto sommato oggi questo può essere anche un percorso di carriera diverso o qualcosa che gli fa emergere determinate skill che non potrebbero emergere puntualmente dalla ecco ma apri esatto un discorso molto interessante perché mi chiedevo proprio ecco che cosa risponde oggi un genitore a un ragazzo che dice eh da grande insomma voglio fare il pro player di sport perché ti dico che cosa mi hanno risposto i miei quando gli ho detto vent'anni fa voglio fare la tennista professionista mi hanno detto sì benissimo il martedì il venerdì dalle 18 alle 20 gioca a tennis quanto vuoi però poi cerca di trovarti un lavoro serio ecco invece adesso magari la mentalità un pochino più aperta e cambiata e quando un ragazzo dice io voglio fare il pro player magari i genitori ecco assecondano questa sua volontà assecondano questo tipo di carriera com'è adesso il rapporto ecco tra i genitori e i figli della generazione z che vogliono intraprendere questo tipo di percorso ma quello che stiamo provando a fare noi è che nella logica appunto della cultura e anche nella logica del DNA dell'academia che era la parte della formazione di ASCA di formazione e consulenza noi abbiamo proprio messo a catalogo dei corsi che parlano del mondo degli sport e di di quello che può comportare entrare in una cadena del mondo degli sport ed è un corso che non è rivolto alla generazione z ma a mio avviso è proprio rivolto alla generazione boomer per capire effettivamente che questo è un fenomeno di una nuova professione io comunque al di là di questa attività sono indipendente di una multinazionale del mondo degli HR già dieci anni fa si parlava di una serie di professioni che non ci sarebbero più state e che in effetti non ci sono e che oggi ce ne sono tante altre quando dieci anni fa a livello global le riunioni che particiò mi si parlava ci sarà il professionista il content creator io dicevo non riesco a comprendere come si possa guadagnare facendo delle grafiche in internet oggi adesso è diventata assolutamente la normalità quindi bisogna spaziare un po' via i pregiudizi assolutamente aprirsi l'importante secondo me è avere comunque un'etica e una guida questo è quello che noi ci teniamo anche perché soprattutto se si rivolge al mercato e quando si parlava prima del mondo dell'advertising delle responsabilizzazioni eccetera eccetera questo è un messaggio importante un messaggio che alla base come tutte le cose ci devono essere dei valori e bisogna essere fermi su questi valori che vanno di là poi della speculazione economica certo ecco quando si parla di sport è naturale a proposito di stereotipi associare tutto questo a un mondo prevalentemente maschile e invece no perché voi avete un grande progetto legato invece al mondo femminile tra l'altro insomma siamo proprio nel periodo dell'otto marzo quindi è giusto parlarne sì sì abbiamo un progetto che abbiamo realizzato questo faceva parte di quando siamo partiti perché senza entrare poi nel discorso dei generi dell'inclusione ma proprio perché è corretto non abbiamo fatto per una quota rosa abbiamo fatto perché comunque è qualcosa a cui crediamo e a febbraio è partito un team di solo donne di solo di solo ragazze su un titolo diverso che è un si chiama Valorant che non è FIFA ma è Valorant è Valorant Valorant è un battle game per cui anche qua nel senso bisogna stare molto attenti anche come comunicare questa cosa cioè siamo comunque in un periodo di guerra questi parlano della società benefit e qui dopo mi mettono su un battle game ma invece è il classico battle game di strategia e la scelta è proprio stata di costituire un team solamente al femminile perché abbiamo 5 ragazze e anche qua la logica degli sport che sono anche società diverse che giocano in squadra assieme ed è uno Valorant è uno dei titoli più conosciuti del mondo tra l'altro si dice sempre anche questo è uno stereotipo ma siamo qui per distruggerli che le ragazze e le donne fanno più fatica a fare gruppo a fare strategia a fare squadra insieme invece negli sport è così oppure no? questo è quello che si dice nel mondo reale nel senso è il dubbio che è uno stereotipo perché si dice sempre cioè alla fine due uomini che discutono finisce davanti davanti alla birra però quello che noi vogliamo anche combattere è proprio la logica degli stereotipi cioè nel senso e anche con i messaggi che vogliamo passare ma ce ne sono ancora troppi anche nel mondo delle pubblicità eccetera eccetera ed è veramente una non voglio dire una battaglia però nel senso è un altro dei messaggi che vogliamo passare proprio open mind e cerchiamo di combattere gli stereotipi questo perché la parte del nostro progetto ritornando al discorso anche benefit è quello che noi ci vogliamo proporre anche come supporto quello che dicevo inizialmente per alcune società è forse più semplice trovare il progetto benefit che in qualche modo li possa rappresentare se sono società energivora che inquinino eccetera eccetera è molto più tangibile invece tutte le altre società che possono essere società di servizi è molto più complicato dunque quello che possiamo fare noi è aiutarli a sviluppare altri progetti o addirittura perché questo lo permette la legislazione è che loro sposano nel nostro progetto perché in qualche modo diventano partner e noi comunque appoggiamo LX Team in questo progetto perché ci riconosciamo e inoltre gli stereotipi è uno dei nostri gli obiettivi che volete centrare parlando naturalmente di competizioni ultima domanda che ti faccio è questa quali sono gli obiettivi che volete raggiungere quest'anno con il team maschile con il team femminile allora con il il team maschile abbiamo raggiunto con con Diego che nelle qualificazioni perché tutto il percorso oggi è tra i primi 64 in Europa per cui tra l'altro ogni anno che sul titolo FIFA i ragazzi mi dicono che ogni anno cambia FIFA e chi era il campione del mondo l'anno prima quasi in parte da zero cioè nel senso perché ci sono tutta una serie di innovazioni innovazioni tecnologiche che se uno era forte magari a fare un passaggio quel passaggio lì non si effettua più così poi ripeto qua ci vorrebbe appunto il pro player che lo spiega per cui continuiamo con le qualificazioni oggi nel P64 Storari è andato a Londra a fare la Champions League siamo stati eliminati credo contro una squadra tedesca il Borussia cioè per cui quello che dicevo prima a volte sembra strano cioè penso che se dovessi fare oggi una squadra di calcio ora che arrivo in Serie A Champions League probabilmente non ce la farei mai che vi svenereste perché ecco quale circolo sicuramente non abbiamo le capacità la capacità degli sceghi di mettere le due squadre e poi magari di non vincere comunque la squadra e invece cioè quando mi mi mandano le dirette ai Twitch vedo che giochiamo contro la Juventus soprattutto questo dico a volte esulto anche cioè da solo in macchina quando Andrea si diventi anche il tifoso inevitabilmente mentre guido c'è cosa che non si dovrebbero fare e per cui dato a fare la Champions League oggi gioca con l'Empoli se l'Empoli prima classifica con il nostro giocatore se dovesse vincere il campionato abbiamo diretto automatico la Champions League dell'anno prossimo questi sono gli obiettivi le ragazze hanno appena cominciato hanno appena cominciato con questo torneo per cui credo che già l'obiettivo che dicevito prima di riuscire a creare il team tra cinque ragazze più coach credo questo possa essere già per noi una grossa successo quello che stiamo facendo per continuare nel progetto noi stiamo costruendo nella nostra sede stiamo costruendo una giving house per dare la possibilità ai ragazzi di allenarsi assieme perché oggi si allenano online per cui anche l'uomo di avere una casa di allenamento come può essere l'anello per l'internet o la pinetina per l'inter per cui avere una casa stiamo allestendo questa gaming house ma al nostro tempo vogliamo aprirla anche appunto a quei genitori anche a quei ragazzi dare la possibilità magari organizzando degli show match non dico di prendere ragazzino e farlo giocare contro diego perché non prenderebbe pan contro storari ma magari appunto fare dei due contro due un ragazzino con Diego e uno con Andrea Pro M con il pro e l'artor una cosa che si fa di golf e che potreste mi invitate però assolutamente sì sarai la prima all'inaugurazione insieme a Diego perché io sono scarsissima quindi ho bisogno di un campione che riequilibri un po' ecco la mia assoluta insipienza sarà contento di giocare con te tra l'altro io ti aspetto magari ecco proprio insieme a Diego perché gli devo chiedere una cosa perché allora il suo soprannome mi ha un po' incuriosita Crazy Fat Gamer e io esattamente ho visto le foto ed è magrissimo e dico allora appunto sulla pazzia perché sarà crazy allora magari magari un po' pazzerello e allora la prossima volta glielo tesiamo assolutamente sì 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 glielo ho chiesto anch'io ho detto ma ho cominciato a chiamarmi così ho detto ma è successo un chioso vabbè vabbè allora ce la segnavo come domanda gli chiederemo spiegazione Diego comunque è ipercompetitivo in tutto cioè nel senso scoperto Diego è stato non so a che livello comunque ha fatto i campionati italiani di ping pong ecco io lì sono più forte ecco e l'altro so che Diego anche per cui tu arrivi dal tennis per cui un match a padel potrebbe essere su un fine lo organizziamo e poi pian piano mi reinserite dal donkey kong fino a ci pensano Diego e le ragazze di valora ci vorrò un pochino di più però dai mi impegno mi applico almeno questa il fatto di venire dallo sport ti dà comunque il credere fermamente nell'allenamento e della disciplina e sicuramente miglioro poi non diventerò magari un fenomeno però migliorerò va bene io ti ringrazio tanto Roberto D'Averio ospite di questa nostra puntata del podcast e naturalmente adesso la linea va alla pubblicità e noi torniamo prestissimo con un altro approfondimento grazie